Nel Cremonese si rileva una situazione critica in ambito lavorativo. Se da un lato le imprese lamentano la scarsa disponibilità da parte di chi cerca lavoro, dall'altro gli assunti sono costretti a vivere nel precariato, accettando impieghi che non garantiscono la sussistenza. Per quanto riguarda la situazione presso i centri per l'impiego di Cremona, Crema, Solisina e Casal Maggiore, posso dire che le posizioni attive presenti sono 396. Per quanto riguarda i profili che vengono chiesti dalle imprese, che sono impiegati tecnici, contabili, amministrativi e anche molti metermecanici, elettronici, elettricisti e poi anche qualche laureato, ma di una laurea specializzata. Coloro che cercano lavoro, le imprese di piccole dimensioni non hanno le possibilità di formarli. Per quanto riguarda le grandi imprese, si lamentano comunque anche loro, perché prendono atto che molti, dopo un po' cambiano lavoro, abbiamo molte lamentere in questo settore. In risalto anche il tema disoccupazione. Si parla di oltre 5.500 cittadini che hanno fatto domanda di immediata disponibilità per un settore, quello delle imprese, in difficoltà certamente per via della rigidità degli aspiranti lavoratori, ma al tempo stesso colpevole di scarsa appetibilità, a causa di un'offerta insufficiente. Le imprese sono in sofferenza perché non si trovano, perché molti sono anelastici, molti non vogliono cambiare lavoro, non vogliono spostarsi dal posto, molti addirittura non hanno nessun desiderio di perfezionarsi. La verità è che è un modo di bisognosi, che però con tanti problemi che limitano la loro disponibilità intellettuale. E poi pagati comunque, pagati non tanto bene. Non c'è futuro, sono piccoli lavori per poche ore. C'è anche il lavoro, ma è poco, non è tanto pagato, quindi è una situazione difficile.